con calma un altro po' che ci faccio con la muffa lì fuori la prossima volta rompiti la testa così vieni qua direttamente ho trovato lavoro come Pony Express posso iniziare subito volendo ma mi serve un motorino quindi è questo che vuoi? soldi con 3000 euro noi rabatto uno decente so che non sei tenuto a farlo ma se potessi farmi un piccolo prestito beh figurati che sono 3000 euro per uno come te è la mia occasione dammi una mano no? ma Romorbella fammi vedere come ti comporti prima io mi hai preso per Dario fai i compiti e ti do la merendina e allora non vedrai neanche un centesimo ecco gratta il dottore e viene fuori Riccardo Malosti Dario ce l'ho io in affidamento e se voglio tu lo facci anche più avvicinare questo non mi risulta ci hai già provato altre volte a tenerci lontani e hai toppato tu mi tratti come una merda e questo a lui non piacerebbe quindi basta la cresta con me dottore perché se mi girano le palle ci metto tanto così a rivoltartelo contro non sono non no non 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 è non non